Due debutti pesanti dopo quell'europeo contro Le Mans, sale Giorgiovic in panchina e Mario Chalmers in campo, due che si sono presentati dicendo di voler vincere qualcosa di importante, parlano di una Virtus che volta pagina e apre un nuovo corso. A Torino, contro una squadra che aspetta il cambio di proprietà e intanto deve salvarsi, guidata anche dall'ex Peppe Poeta a soli 6 punti da quota 3.000 in Serie A, i bianconeri e il campionato accolgono due firme eccellenti e si spera da queste parti ancora vincenti, come lo sono già state in carriera. E' una Virtus tutta nuova con loro anche nelle scelte, Giorgiovic che ritrova il nostro campionato dopo sette stagioni e ha le prese con il doppio turnover da rispettare. Il serbo lascerà fuori uno tra Moreira e Quoli o forse entrambi se l'idea sarà di andare avanti con Baldi Rossi come backup dell'ormai titolarissimo Kravic in posizione di pivot. Difficile pensare all'accantonamento di Panther, che resta il miglior marcatore della squadra, o di Mbaillet numero 4 più complicato da sostituire nel meccanismo. Dall'altra parte però rinunciare a due interpreti dello stesso ruolo potrebbe sembrare troppo e comunque apre all'idea di sfruttare in quello spot l'ultimo visto a disposizione. Prima di tutti questi ragionamenti però c'è da tornare a vincere anche in Italia, dove la Sega Fredo arriva da tre sconfitte consecutive che diventano quattro nelle ultime cinque, tante da metterne a repentaglio classifica e piazzamento playoff. Si riparte di rincorsa dal decimo posto, con una scalata ancora possibile a tre vittorie di distanza dal quarto posto, ma anche quel trio che precede con due punti di vantaggio, Trieste, Cantù e Trento, al centro di un momento magico e di lunghe strisce vincenti. La Virtus deve ripetersi dopo la grande serata di Champions contro i francesi. Djordjevic ha chiesto intensità e collaborazione, aiuto in difesa e un passaggio in più in attacco, di giocare come squadra insomma, mettendo da parte ogni pensiero individuale. Grazie.